Tu ritieni di aver fatto il tuo dovere non solo come consigliere comunale ma anche come cittadino, però ti ritrovi una denuncia, insomma una querela sulle spalle, in questo caso da Paolo Ricci, presidente di Nuove Acque. Perché? Perché ho tentato un accesso agli atti per ben tre volte, la terza volta di cui appunto tramite il Consiglio Comunale e per intercessione del Sindaco. Purtroppo nonostante la legge tuteli il nostro diritto come pubblici ufficiali all'accesso di questo tipo di documenti, quindi verbali di società controllate o partecipate, tutt'oggi appunto ancora non abbiamo a disposizione quel verbale che abbiamo richiesto. Questo ovviamente con l'utilizzo anche dei toni che sono stati dati nelle risposte ovviamente evasive da parte della società di Nuove Acque, ci siamo fatti prendere un po' dall'ira, abbiamo scritto sicuramente un articolo un po' al fulmicotone, così si dice, ma sicuramente non con l'intenzione di offendere nessuno. Per tutto contro ci siamo ritrovati con una querella per diffamazione, nonostante appunto noi abbiamo cercato di tutelare il diritto di accesso agli atti per i consiglieri ma anche di informazione per i cittadini. Lo stesso Sindaco ha richiesto questo verbale e gli è stato negato? Assolutamente sì, come dicevo l'ho portata anche in consiglio comunale più di una volta, il Sindaco ha intercesso per me e purtroppo anche al Sindaco è stata data la carta del picche, quindi in pratica non c'è possibilità di visionare in maniera integrale questo verbale. Secondo voi siamo nei termini di legge con questo diniego? Dal nostro punto di vista ci sono delle sezioni del Tar come quello della Lombardia, in particolare il Tribunale di Brescia che ha già decretato comunque la possibilità di ottenere insomma questo tipo di verbali da parte dei consiglieri. Più c'è una legge sulla trasparenza che è stata comunque introdotta da poco che dà la possibilità addirittura ai cittadini di avere accesso agli atti di società partecipate che soprattutto offrono un servizio pubblico. Quindi quando si va a torcare un servizio pubblico il diritto di accesso agli atti deve essere assolutamente trasparente.